Previsioni per venerdì 30 giugno. Cielo inizialmente sereno, con rapido aumento delle nubi dalla tarda mattinata e nuvoloso nel pomeriggio. Dalle ore centrali della giornata, temporali sparsi in spostamento dalle zone appenniniche verso la costa. Temperature minime stazionarie, massime lieve aumento, venti di brezza tesa o moderati, mare quasi calmo al mattino e mosso nel pomeriggio.